Attacco informatico all'Antonio Carraro di Campodarsego con la polizia che arriva in soccorso per combattere i cosiddetti crimini online, firmando un protocollo per aumentare la sicurezza dell'azienda. Da un mese era stato aperto un sito internet clone di quello della ditta dove erano state messe le foto dei trattori e della famiglia di industriali. I mezzi si trovavano ad un prezzo minore, come puri i pezzi di ricambio, ed almeno in 15 ci sono caduti credendo di fare un affare, arrivando persino dal sud salvo poi rendersi conto del paragiro. Nonostante l'azienda fosse super protetta, i truffatori sono riusciti ad agire indisturbati per almeno un mese.